E' stato pubblicato il bando del concorso internazionale di idee vendito dall'autorità di sistema portuale del mare di Sicile occidentale dal comune di Palermo per la progettazione complessiva di una porzione del waterfront urbano. Il concorso ha come obiettivo l'elaborazione di idee per il progetto dell'interfaccia urbana del foro italico, la parte del porto coincidente con il molo di protezione del porto storico della Cala, il molo sud e la foce del fiume Noreto con una porzione della costa sud. Il progetto dovrà contribuire ad una migliore integrazione tra funzioni portuali e urbane e immaginare un unico sistema in grado di far coesistere ambiti portuali, urbani e paesaggistici nella consapevolezza di quanto funzioni legate alla fruizione del mare e della costa rappresentino spazi fondamentali nella vita della città. Il bando dunque segna l'avvio di una progettualità più articolata che punta a sviluppare le potenzialità della fascia costiera, facendone un punto di riferimento sotto il profilo estetico della sostenibilità e della socialità, insomma un ulteriore elemento attrattivo per cittadini e turisti tra trasformazione e rigenerazione. I partecipanti dovranno elaborare una proposta ediativa che nel rispetto delle linee di indirizzo del concorso di idee permetta alla commissione giudicatrice di individuare, mediante formazione di una graduatoria, le migliori quattro proposte ed eventuali altre tre proposte meritevoli di menzione, alle quali andrà un rimborso spese di 5.000 euro. Il concorso stabilirà una graduatoria di merito con la distribuzione di un monte premi che ammonta complessivamente di 165.000 euro. Palermo guarda il futuro e lo fa dal waterfront, commenta il presidente dell'autorità di sistema portuale Pasqualino Monti, con un progetto ambizioso dal respiro internazionale, un punto di svolta per la città per la visione che ingloba, dove il mare è l'indiscusso protagonista e il verde non gioca un ruolo meno importante.